ciao a tutti amici di youtube benvenuti nel nostro canale oggi parliamo di amici 23 il talent show più seguito su canale 5 che è di nuovo al centro delle polemiche punto nelle ultime ore un provvedimento disciplinare ha colpito gli allievi di amici 23 a seguito del caos sulle pulizie emerso nel daytime di ieri holden è stato accusato di non pulire la casetta ma non è l'unico coinvolto altri allievi come gaia martina nicolas simone marisol malia aile sara sono stati citati punto la decisione proposta da alessandra celentano e supportata dai professori riguarda le pulizie e l'igiene della casa degli allievi celentano ha manifestato il suo disappunto definendo gli allievi irrispettosi maleducati e arroganti il provvedimento implica che per una settimana gli allievi saranno senza telefoni se la situazione non migliora i giorni potrebbero aumentare punto alcuni allievi sono stati esclusi dal provvedimento tra cui simone nicolas gaia sara e martina chi ha in aze non sono soggette alla punizione essendo nuove nel programma punto le reazioni sono state varie anna pettinelli lo ha definito è infantile mentre celentano ha ribadito la diffusa mancanza di rispetto tra gli allievi punto quindi a dover rispettare la punizione saranno holden mida marisol peti giovanni malia aile lil gioli sofia cumo dustin e lucia la domanda ora è se riusciranno a mantenere la pulizia e l'igiene della casetta senza ulteriori rimproveri punto insomma la situazione sembra critica e dobbiamo vedere come gli allievi affronteranno questa sfida continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti su amici 23 lasciateci nei commenti cosa ne pensate di questa situazione e se volete altri video su amici mettete un like e iscrivetevi al nostro canale ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao